Nel centenario dell'entrata in guerra dell'Italia durante il primo conflitto mondiale è stata allestita nella biblioteca della regione Piemonte la mostra Cimeli dal fronte, gli oggetti che parlano della grande guerra. In esposizione gli equipaggiamenti e le armi dei soldati italiani e una piccola parte di oggetti appartenuti al nemico, i soldati austriaci e tedeschi. La mostra è visibile fino al 9 marzo. Ho iniziato a fare dei modelli di cararmato, poi lì uno inizia e pian pianino comincia a raccogliere tutte queste cose. Ho cominciato con le divise, ho cominciato con gli elmetti, poi sono andato con le baionette, le sciabole, le legge permettendo e adesso sono arrivato anche ad avere parecchie cose di questo genere come i cimeli che ho esposto in questa mostra. Ci sono anche altre cose da vedere qui alla mostra, oggetti austriaci, pugnali tedeschi, baionette italiane, pregi e diverse cose.